rosalinda cannavo ex protagonista del grande fratello vip nella giornata di ieri ha lanciato un progetto a cui sta lavorando da tempo e che le sta particolarmente a cuore fragola e panna è il nome del format che rosalinda cannavo ha creato su instagram si tratta di una serie di episodi in cui si parlerà di disturbi del comportamento alimentare l'attrice come spesse volte ha raccontato ha sofferto lei stessa di questi disturbi motivo per cui ha deciso attraverso questo progetto di sensibilizzare le persone verso questo tema così delicato e di aiutare in qualche modo chi soffre di questo genere di malattia andrea zenga fidanzato di rosalinda cannavo ha voluto supportare l'attrice dedicandole delle bellissime parole un progetto bellissimo che hai fatto tutto da sola con la tenacia che ti contraddistingue siamo tutti fieri di e amore andrea zenga è molto orgoglioso della sua fidanzata rosalinda cannavo per la bellissima iniziativa che sta promuovendo tramite instagram l'ex geffina vuole farsi portavoce di un messaggio molto importante cercando di aiutare chi come lei ha dovuto combattere o sta ancora combattendo contro i disturbi del comportamento alimentare